Allora, se una solita prestazione dell'ultima settimana in trasferta avete anche giocato, non si può dire che non avete giocato, giocato anche bene, però non avete concretizzato niente e poi almeno un errore la fate sempre e pensate in ultima spiegazione. Sì, oggi la battuta di prima è anche vera, trovare le parole è difficile, nel senso che è un'altra partita in cui facciamo un gran volume di gioco, e siamo puniti da errori nostri e anche un po' di sfortuna. Dopo il secondo gol la partita è sinceramente diventata complicata, abbiamo creato poco, però penso che anche fino all'1-0 stavamo facendo quello che avevamo provato e ci è mancato un po' di incisività davanti questa volta, sia nel mettere la palla magari, sia nell'arrivare sulla palla, ci è mancato qualcosina. Altro da dire, sinceramente faccio fatica, nel senso che è questo fattore da migliorare, è inutile starci agiare intorno, dobbiamo fare qualcosa di più, perché ormai le partite ne sono passate tante e fuori siamo ancora a pochi punti, e evidentemente bisogna trovare quello che non va. No, per me ora dirlo è difficile, nel senso che è veramente difficile trovare una soluzione immediata, però dobbiamo trovarla. È chiaro però che in casa siete un po' più pericolosi, sempre più pericolosi, per certe fatica, pur avendo un pallino del gioco che oggi, direi almeno 70, almeno 90. Sì, anche secondo me, il pallino del gioco, il volume del gioco è stato tanto, non lo so, dobbiamo trovare una soluzione perché evidentemente provare qualcosa di diverso, non lo so, veramente sono in difficoltà nel trovare le parole, una soluzione giusta in questo momento. Di buono c'è la personalità nel senso di mantenere la palla, di fare la partita su quasi tutti i campi in cui siamo stati, quindi quella è una cosa positiva, di negativo c'è che stiamo parlando a casa quasi niente, in trasferta, e come hai detto te prima, è evidente, è palese che in casa siamo più pericolosi, è evidente, facciamo più gol, creiamo più occasioni, però è un trend che dobbiamo cercare di invertire. Il fallo sull'Orioli dal campo? Sinceramente un fallo che ci poteva stare ma purtroppo non era così netto e quindi poteva fare un po' entrambe le cose, secondo me non era un fallo così clamoroso da recriminare più di tanto, è un contatto che secondo me se l'avessi fischiato non sarebbe stato scandaloso, però sinceramente era un contatto non così clamoroso, sincero. Va bene, era?